Un tragico incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio sulla strada provinciale 18 che collega Trapani a Custonaci. Due autovetture si sono scontrate frontalmente a circa 500 metri dal ponte Forgia, causando la morte di Francesco Grispo, un giovane di soli 25 anni, alla guida di una Fiat Bravo. Il violentissimo impatto ha lasciato entrambe le auto gravemente danneggiate e i due conducenti bloccati tra le lamiere. Sul posto sono intervenuti prontamente vigili del fuoco che hanno lavorato intensamente per estrarre le vittime dai relitti delle auto. Due ambulanze del 118 sono giunte in tempi rapidi e hanno trasportato i feriti all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani. Purtroppo per il giovane Francesco non c'è stato nulla da fare. Gli sforzi dei medici si sono rivelati vani e la notizia della sua morte ha gettato un allone di tristezza alla comunità locale. La conducente dell'altra auto, una Dacia Duster, è stata invece soccorsa con ferite non gravi ma comunque necessitanti di assistenza medica. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle autorità competenti con i vigili urbani di Valderice che sono intervenuti per gestire la situazione e raccogliere le testimonianze.